Francesco Monte soffre, le ultime parole di Cecilia fanno male Francesco Monte condivide il suo dolore con i fan su Instagram. . Francesco Monte sta passando un periodo davvero difficile dopo la rottura con Cecilia Rodriguez avvenuta durante una puntata del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato lasciato davanti alle telecamere, lex tronista di Uomini e Donne ha dovuto affrontare anche la nuova relazione di Cecilia con Moser. . Più volte Monte ha dichiarato di essere ancora innamorato della sorella di Belen Rodriguez. . I due però non si sono ancora incontrati per un ultimo chiarimento. . 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 Cecilia e Monte si incontreranno presto?. . 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